Il film che presento qua a Bellaria si chiama El futuro es hoy, il futuro è oggi e sono sette personaggi che vivono a Lavana loro parlano di Cuba in questo momento, di come loro vedono il futuro certi di loro vorrebbero un cambiamento, altri vorrebbero che le cose restassero come sono adesso Ho girato in questo posto vicino al mare, che è il lungomare della città dell'Havana che si chiama El malecón tutti questi personaggi sono legati a questo posto con il tempo ho visto che è interessante parlare di Cuba, come andrà avanti, cosa succederà nel futuro Cuba vive una situazione particolare con questa rivoluzione e proprio questo anno Cuba ha fatto 50 anni della rivoluzione cubana Perché no chiedere ai stessi cubani come loro si sentono in questo momento e come vedono il loro futuro nel proprio paese, nell'isola ho dato la parola a questa gente semplice del popolo gente diversa, uno scrittore, un pescatore, una giovane, una signora un po' maggiore e così tutti parlano e Cuba in questo momento vive così come un momento di attesa Io l'Italia la conosco già un po', sono già stata qua ma qui sembra così le vacanze al mare non sembra anche che ci sia un festival di cinema miieronci a una signora italiana Ciao Cale